Abbiamo proceduto ad intervenire chirurgicamente sulla paziente che presentava numerosissime ferite da punti a dettaglio soprattutto al volto al cui era perduto ma anche agli atti e poi c'era un esame penetrante in addome quindi abbiamo effettuato l'esplosione degli organi interni per escludere che ci fossero delle esame molto gravi e insomma la paziente ha superato violentemente l'intervento e credo che sia si può considerare non più in pericolo di vita chiaramente con una prognosi riservata quindi rimarrà ricordata in osservazione per le cure del caso.